stasera altro che petardi a parte che sono color topo come la pina di fantozzi con i capelli color topo però non ho l'alito di fogna quando gli scrive la lettera allora voglio parlare di un argomento che è un casino da spiegare e non so da dove cominciare dovevo fare il rapper io ma quando ho deciso cosa fare da grande il rapper non c'erano o meglio stavano cominciando ma ancora non era il boom sto anche cercando di capire come funziona o per camera nuova ma anche qua ci sono ancora non riesco neanche ad accenderla ma ce la posso fare prima o poi ce la farò va bene tanto questa è carica vedrò poi para para papara no quello era beautiful ok non c'entrava un bel in andiamo avanti allora anime che si incarnano e che si reincarnano anime dentro a involucri come richiama la mia collega di congrega anna settembre perché in effetti i corpi fisici questi sono involucri non sono nient'altro non hanno una loro personalità ciò che li rende soggettivi e l'anima che li va ad abitare in quel in quella determinata incarnazione o reincarnazione ma le domande su queste anime all'interno di questi involucri che mi sono tante io ho cercato di mettere insieme queste domande perché perché c'è caldo oggi fa veramente caldo e la mia maglietta con la morte che fa facchio è bellissima a prescindere perché ne ho accennato un po quando ho parlato delle singole cioè quando ho parlato della reincarnazione ho parlato per lo più delle anime comuni che transitano tra la terza dimensione materiale che è la nostra e la quarta dimensione che è quella dove andiamo quando siamo defunti questo sia noi sia altri popoli di altri pianeti sia gli animali e via dicendo tutti nella quarta dimensione però non si incarnano e non si reincarnano solamente le anime della quarta dimensione allora è un discorso abbastanza arzicocolato niente me la devo togliere perché sto schiattando oggi veramente faccio la sauna aria io ti sento già non me la ricordo più era quella di marcia la bella mi pare e son vecchia allora dicevo le anime della quarta dimensione notoriamente normalmente si reincarnano come spiegavo di volta in volta quando hanno la necessità di riaccumulare sacche raccoglie energia ed energie in generale di coltivare ricordi che poi si perpetrano nel futuro e via dicendo e per imparare in qualche modo per aumentare anche la loro spiritualità a prescindere ma non evolvono nel senso che non vanno a stare nella quinta nella sesta e vattene la pesca come dicono alcune religioni anime della quarta sono e quando sono anime sempre nella quarta restano qualche anima particolarmente evoluta a livello spirituale può andare a guardare nella quinta vita ma è come io che sono adesso nella terza e sono capace a guardare dentro la quarta è una mia peculiarità sono io che sono capace ma non posso vivere nella quarta se io mi fermo in astrale nella quarta per più di un tot di tempo mio umano concesso il mio corpo fisico qua muore quindi in ogni caso la mia vita attuale è nella terza dimensione quando un'anima è abbastanza evoluta da poter guardare nella quinta e si trova nella quarta cioè un'anima defunta lei deve rimanere nella quarta può affacciarsi può guardare se è veramente tanto evoluta nella quinta ma non ci potrà mai andare a stare in modo stabile e non ci starà mai perché non si va a salire si rimane nella propria ecco ma non ci sono solo loro il discorso è un discorso di incarnazione e reincarnazione estremamente ampio perché intanto perché noi abbiamo una cognizione sbagliata di reincarnazione per quanto riguarda la tempistica i tempi nel senso di ere e annate e la razza quando siamo nella quarta dimensione le anime defunte originarie della quarta dimensione sono tutte insieme non c'è la quarta dimensione del pianeta terra la quarta dimensione del pianeta marte la quarta dimensione della costellazione d'orione via dicendo quindi le reincarnazioni non sono né lineari a livello di tempo perché il tempo non esiste e quindi io mi posso reincarnare qui nel 2020 2021 poi la prossima magari posso reincarnarmi nel 1200 poi l'altra ancora nel 3000 poi di nuovo nel 1800 e dopo io voglio come mi pare perché non c'è la direttrice lineare del tempo secondariamente non è detto che io mi debba reincarnare qui sul pianeta terra io potrei per necessità mie dover affrontare magari delle prove diverse animiche dei nodi animici diversi che si trovano in una colonia abitativa appunto sulla cintura di orione o in una stella ancora non conosciuta dal nostro universo o chissà dove quindi a volte oltre ai ricordi diciamo standard di vita normale che possiamo avere in regressiva specialmente di vita normale tra virgolette di vite passate o future in questo mondo in questo pianeta terra che noi conosciamo possiamo anche avere dei flash dei ricordi delle sensazioni e delle regressive vere e proprie di mondi sconosciuti perché allora non ce ne rendiamo particolarmente conto rispetto al questo capita anche a noi che praticamente viviamo il mondo del paranormale giornalmente e spesso ci chiediamo perché ecco la base devo staccare il carica batteria la base secondo me principale di chi vive il paranormale è sempre quello di mettersi in dubbio e di mettere in dubbio tutto ciò che vive perché se io do per scontato che quello che dico e quello che so e quello che vedo è certo al mille per mille io smetto di crescere spiritualmente io per prima da quando ero bambina io sono nata che vedo le entità fino agli 8 9 anni la vivevo come una situazione normale perché per me incontrare un vivo incontrare un defunto era la stessa cosa non cambiava niente perché c'ero abituata a 10 11 anni mi sono cominciata a chiedere se non fossi fuori se non avessi dei problemi psichiatrici se non fossi schizofrenica perché comunque questo dubbio qua se sei normale ti deve venire e fino ai 20 buoni mi sono chiesta e mi sono posta questa domanda e ho cominciato a fare ricerche mirate per capire se realmente era ciò che vedevo cioè se io vedevo un defunto me ne fregava una sega di andare a chiedere esiste dio esiste cristo esiste buddha esiste all'acqua quelli erano problemi esistenziali che all'epoca non mi interessavano minimamente di cosa esistesse quello che mi interessava chiedere era con chi eri imparentato sono ancora vivi li vado a cercare devo chiedergli se tu esisti perché a me interessava quello se era vero che io vedevo tizio caio semprogno se era vero che io parlavo con tizio caio semprogno ovvio che se mi si presentava il soldato romano il centurione non è che potevo andare a chiedere ai parenti se fosse vivo se fosse stato vero o no ma se mi capitava il ragazzo morto in moto la persona anziana caduta per strada ok potevo permettermi di chiedergli delle informazioni sulle loro famiglie e anche lì ovvio non è che andavo a suonare al campanello guarda che ho incontrato tuo fratello morto e mi ha detto così così ci penso manco anche perché il tso poi te lo chiamano davvero ma io avevo le mie certezze perché sapevo informandomi che quella persona che io avevo visto era reale ma questo dopo i 20 ho cominciato anche perché prima in età adolescenziale era un po' complicato andare in giro per telefonate o per l'italia o per cosa ad avere certezze in merito dopo i 20 comunque io a 19 sono andata a vivere da sola e avevo anche un po' più di libertà d'azione in tutti i sensi e quindi ho potuto appurare piano piano e togliermi se non altro certi dubbi che cominciavano a essere un pochettino gravosi con tutto che io sono sempre stata appoggiata in ciò che vedevo e in ciò che sentivo ma in generale appunto secondo me la persona intelligente è quella che riflette sempre e non prende mai per partito preso una nozione e basta ma si applica, si informa, studia e cerca la soluzione o le varie possibilità prima di decretare se una cosa è o non è ora tornando al discorso animico invece appunto come dicevo io potrei decidere di reincarnarmi nel 3000 su Marte su Marte adesso non c'è vita ma io sto facendo degli esempi e poi nel 1200 sulla Terra e poi nel 1000 avanti Cristo come data sulla cintura di Orione ma quando noi poi abbiamo io parlo specialmente di chi fa e si allena soprattutto con la meditazione regressiva come dicevo anche in un gruppo dove sono entrata da poco oggi per me l'ipnosi regressiva è un'emerita cavolata è un buttare via dei soldi quindi non ci do assolutamente adito anzi quando mi chiedono ma secondo te potrei farla dico sempre lascia perdere perché sono tutte fregnacce anche perché io non ho mai trovato nessuno che fosse in grado di ipnotizzarmi a prescindere e quindi sfido chiunque a provare ad ipnotizzarmi non ci riuscirà mai io non credo nell'ipnosi non ci ho mai creduto e non ci crederò mai ma nella meditazione invece regressiva ho avuto soprattutto con i video gratuiti che si trovano anche qua su Youtube del dottor Weiss che appunto ha fatto delle meditazioni guidate fantastiche gratuite che si trovano tranquillamente durano una mezz'oretta semplici da attuare e che danno ottimi risultati certo se le fate 50, 100, 200 volte non è che danno risultati il secondo giorno che ci provate e poi mollate lì siamo sempre lì questo è un mondo dove se volete entrarci e studiare ci dovete entrare per anni non basta non c'è sala cadula, medica bu, la vidi di bo, di di bu e secondo me c'ho le caldane perché non è possibile che io abbia così caldo stasera vabbè torna c'ero quasi 50 potrebbe anche essere ma a prescindere dicevo a volte in regressiva specialmente per chi come me o come le colleghe via dicendo la facciamo giornalmente da anni e anni capita ed è capitato che avessimo qualche flash qualche immagine magari di cose assurde mai viste tanto è vero che spesso è successo che tra di noi soprattutto i primi tempi incongrega ci dicevamo a vicenda io con carrie con rita con pamela ma guarda a volte mentre sto facendo regressiva per un po' funziona poi si vede che sfarfallo con la fantasia perché l'idea principale era quella perché a volte vedevi cose ma proprio fuori dall'ordinario erano piccoli flash però magari potevi vedere che ne so un esempio una pianta mai vista luminescente un albero rosa un qualsiasi cosa che comunque sembrava più quasi un cartone animato che non una cosa reale e quindi lì ti davi l'attenuante che oh non riesco a incrociare ste cavolo di spalle e ti davi l'attenuante che probabilmente durante la meditazione la tua fantasia avesse sfarfallato un attimo poi col passare del tempo con l'approfondimento dello studio occultistico e dello studio sulla spiritualità in generale via dicendo attraverso l'aiuto delle nostre guide eccetera ci siamo rese conto che invece a volte potevano essere non sfarfalli della fantasia ma in realtà ricordi appunto reincarnici quindi regressive di altri mondi semplicemente che non avevano le conformazioni che invece abbiamo nel nostro in questo qua dove siamo ora nella pianeta terra e quindi anche queste sono nozioni impara l'arte e mettila da parte e impari anche questa cosa poi andando avanti appunto con le esperienze con le conoscenze perché comunque tu conosci anche sia entità ma anche altre persone che si interessano di spiritualità e siccome io non parto mai con ormai lo so ma anzi come dicevo prima io metto sempre in dubbio tutto quello che so perché anche gli scienziati fanno così anche gli archeologi anche gli storici è normale mettere sempre in dubbio tutto perché quando tu hai la certezza che una cosa sia in un certo modo finisce che arriva il cavillo che ti scombina tutto il pensiero basti pensare all'archeologia fino a 10-15 anni fa 20 si diceva che le tre stirpi umane in linea di evoluzione furono l'uomo di Cro-Magnon o Cro-Magnon che dir si voglia l'uomo sapiens da cui dovremmo discendere noi e il Neanderthal e si diceva che Cro-Magnon e Neanderthal si fossero estinti e invece l'uomo sapiens si è riuscito poi a progredire arrivare a essere l'uomo sapiens sapiens adesso si sono scoperti negli ultimi 20 anni un sacco di altre tipologie di ominidi che c'è quello di l'uomo dono 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 ivia qualcosa del genere e ce ne sono molti altri che hanno completamente ribaltato la situazione della storia a livello genetico di evoluzione dell'uomo hanno trovato con i nuovi tipi di esami alcuni gli esami mitocondriali sono hanno trovato che nel nostro dna di homo sapiens ci sono mescolati almeno in una parte del pianeta dei mitocondri del dna dell'uomo di Neanderthal mentre invece fino a 20 anni fa si diceva che le due razze non erano compatibili ora sembra che soprattutto in Europa le due razze invece si siano accoppiate tra di loro e si siano in qualche modo fuse quindi anche a livello storico a livello di cognizione a livello di ricerca la cosa va avanti e per chi studia a livello di studioso l'occulto la spiritualità il paranormale in generale l'esoterismo e via dicendo è una continua evoluzione di informazioni e anche a me io non faccio eccezione non sono un messia come mi chiama per sfottermi la collega Anna ogni tanto per prendermi per il culo mi dice il messia e e quindi anche io evolvo le mie conoscenze e evolvo il mio modo di ragionare su certe tematiche in base alle nuove nozioni che imparo comprendo capisco ecco oltre alla linea generale della quarta dimensione che si reincarna nella terza che poi ritorna nella quarta che si reincarna nella terza io io a seconda dei casi e di cui come ho detto prima non conta il pianeta non conta l'anno non conta una mazza perché qua si tende sempre a dare troppe regole no? ci si reincarna dopo 8 anni prima ci si deve purificare appena morti no non funziona così non ci sono i tempi il tempo di là non c'è quindi non ci può essere ogni tot anni ogni tot mesi non esiste proprio ma non c'è solo quello allora le anime possono anche scomparire del tutto per i più svariati motivi sono talmente tanti che non potrei dovrei farci tra video in contemporanea per poter fare una minima descrizione di esempi del perché ma possono scomparire dissolversi nel nulla quindi sparire del tutto morire in qualche modo per sempre oppure possono decidere di sopravvivere solo nella quarta dimensione senza reincarnarsi e trovando diciamo altri mezzi per avere un'energia loro e non avere la necessità di tornare di qua che sia per un motivo che sia per l'altro l'universo il bilanciamento cosmico dell'universo ha la necessità che nella terza dimensione che sarebbe quella che comprende tutto quindi tutti i pianeti e tutto quanto della dimensione materiale ci siano comunque un tot di anime reincarnate non possono essere di più non possono essere di meno quindi cosa succede? quindi succede che si possono da parte dell'oltre da parte dell'universo stesso creare anime nuove anime nuove per la razza a cui servono quindi razza ragionante è un tipo di anima animali è un altro tipo di anima piante è un altro tipo di anima si creeranno le anime nuove per quella tipologia di reincarnazione perché non è come dicono nelle religioni che l'animale poi evolve diventa uomo che l'uomo se fa il cattivo diventa animale che fa il cattivo perché l'animale è inferiore non la vedo sta cosa non ha senso l'anima animale nasce per essere un'anima animale l'anima umana o comunque ragionante nasce per essere ragionante perché teoricamente non è animale ma sarebbe l'anima ragionante l'anima pensante e l'anima statica l'anima statica di solito ce l'hanno gli oggetti tra virgolette naturali che hanno una loro anima che però non è né ragionante né pensante l'anima animale è per lo più un'anima pensante ma non ragionante l'anima dell'essere ragionante è l'anima dell'essere che ha l'evoluzione linguistica e l'evoluzione di pensiero tale da poter ragionare quindi l'essere umano o l'alieno ragionante perché anche lì poi negli alieni ci sono tante di quelle razze che ciaocicia con patate ma adesso non stiamo parlando di razze aliene tornare al discorso delle anime quindi ogni volta ogni qual volta un'anima o non si vuole reincarnare e decide di rimanere di là o si disintegra per i più svariati motivi che adesso non vi posso stare a spiegare perché è una cosa veramente lunga bisogna che venga rimpiazzata quella che noi occultisti chiamiamo la fonte delle anime che è una parte dell'oltre con determinati suoi guardiani dedicata proprio alla formazione di anime nuove da inviare sul pianeta di destinazione per reincarnarsi ma non si incarnano perché sai la prima volta non si dice reincarnano si dice incarnano ma non si incarnano solo loro e non si reincarnano solo le anime umane umane ragionanti si reincarnano a volte o si incarnano per la prima volta anche alcune anime elevate della quinta dimensione quindi esistono nella terza dimensione angeli incarnati demoni incarnati guardiani incarnati incarnazioni come le chiamo io l'incarnazione della morte l'incarnazione dell'amore l'incarnazione della giustizia e molti altri e via dicendo per quale motivo anche qui i motivi sono millemila ma per lo più specialmente per quanto riguarda angeli e demoni e guardiani le motivazioni sono quasi sempre le stesse angeli e demoni si incarnano o si reincarnano semplicemente quando hanno la necessità o il desiderio di seguire una certa esistenza per le loro motivazioni personali proprio personali non per scopi universali per i loro cavolacci propri a prescindere voi i guardiani i guardiani a volte si incarnano in esseri viventi per portare a termine determinati compiti per i quali un'anima normale anche abbastanza evoluta a livello spirituale che però è un'anima semplice della quarta dimensione non avrebbe le capacità allora entrano in gioco i guardiani che si incarnano in determinate epoche in determinate vite per portare a termine quel compito particolare e hanno delle capacità particolari i guardiani come gli angeli come i demoni io li chiamo angeli e demoni ma non c'entrano una merita fava con la religione quindi tutt'altra cosa ripeto gli angeli non sono buoni i demoni non sono cattivi sono solo razze e potrei dire la razza azzurra e la razza viola invece che angeli e demoni ecco tanto per farla semplice o la razza verde e la razza viola e così altre tipologie di entità della quinta dimensione loro non si reincarnano per coltivare l'anima non ne hanno bisogno hanno altre fonti energetiche che li riattivano ma hanno invece diversi desideri o diverse necessità personali e non per venire a stare nel mondo materiale e per viverci perché un'entità della quinta dimensione se rimane in forma entattica quindi animica come anche uno della quarta un defunto un fantasma non può rimanere fisso fermo nella terza perché si discioglierebbe anche il demone anche l'angelo anche il guardiano anche l'anziano anche le altre varie tipologie che sono veramente tante di razze della quinta dimensione se non stanno nella loro dimensione almeno a tratti subiscono dei danni elevati alla loro parte animica quindi l'unico modo per vivere un'esistenza nella terza dimensione è quella di incarnarcisi e loro ne hanno la capacità uguale come quelli della quarta è loro libero arbitro è loro libera scelta ma se decidono di farlo vengono al mondo come noi molte volte ricordano a un certo punto della loro vita chi sono stati cosa sono altre volte non lo ricordano perché il trauma della nascita come ho spiegato nel video che se lo cercate con la lentina si chiama il trauma della vita il trauma della morte e basta che cercate trauma vi viene fuori anche loro a volte subiscono il trauma della nascita e di conseguenza dimenticano chi erano anche se rispetto a un comune mortale incarnato della quarta dimensione un incarnato o un reincarnato della quinta dimensione avrà delle capacità e dei doni chiamiamoli doni molto più elevati già sin dalla nascita non sarà un comune comune mortale ecco questo a prescindere e spesso sono stati confusi specialmente quando erano in età infantile con la leggenda new age dei bambini indaco dei bambini cristallo dei bambini smeraldo e cia 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 in realtà questi bambini con capacità straordinarie molto spesso sono invece entità evolute incarnate per varie ragioni che possono essere le loro possono essere di interesse cosmico oppure possono essere mere intenzioni personali ma sono spesso anime di entità superiori rispetto alle anime classiche alle anime normali che derivano invece dalla quarta dimensione il succo è questo ci sono tantissime incarnazioni quelli che non si incarnano e non si reincarnano nella terza sono le entità di tipologia bassa cioè seconda dimensione e quarta dimensione ma nella categoria dei mutaforma nella categoria degli elementari nelle categorie proprio diciamo ignoranti dell'oltre se no le anime evolute le anime estremamente ragionanti le anime in grado di fare scelte concrete della loro esistenza si possono reincarnare o incarnare nella terza dimensione a loro libera scelta è lungo e difficile questo argomento io spero di essere riuscita a chiarire un minimo le idee a riguardo sono a 31 minuti e mezzo quindi vi saluto vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove io bazzico frequento gioco rido scherzo faccio l'idiota perché mi piace tanto anche fare l'idiota è un po' più sotto ci sono 3 o 4 invece dei link più conosciuti come amazon libri eccetera ma feltrinelli mondadori ma ce ne sono millemila che hanno in vendita i miei libri comunque per i miei libri basta scrivere su google normale su chrome su firefox sveva molinaro libri escono fuori tutte le librerie del mondo perché i miei libri sono in vendita in tutto il mondo anche all'estero detto questo vi saluto vi do la buonanotte se ci sono domande ce ne saranno un miliardo lo so già voi scrivetele nel dubbio al massimo faccio poi un altro video perché spiegarle per iscritto ste cose risulta pesante lungo e anche difficile poi da capire per chi legge invece magari a voce è un po' più semplice almeno da comprendere ciao